120 punti. Andre, 20 punti, 120 punti. Mi iscrivi per favore? Sì, se no sei troppo. Sì, se no sei troppo. Sì, dove sei tu davanti? Vai Ale. Sì, dopo ti sei tu. Dopo Alessandro. Domito, perfetto, sul braccio cinista. Occhio a... Stai sempre verso destra. Guardi bene con l'occhio. Occhio, non banti la freccia. Bravo. Non tirare? Guarda lì. Busto. Bene, bravo. Grande Ale. Guarda lì. 80 punti, bravo. Abbiamo franco, no? Carlo, Carlo. Vai, Carlo. Poi abbiamo... Alessia. Alessia e Francesco. Sì. Francesco, sì. Francesco, sì. Occhio alla freccia, vai. Sempre con... Un problema... È un problema un problema. Trovo davanti su одно, Mario, e... la signora è la signora? no perché non l'ho ancora vista Adesso tanto quando è finito, non arriviamo. Carlo o Franco? Carlo. 60, 60 point. Bravi. Alessia. Alessia. Grazie Franco. Bye bye. Che è Franco? Ha avuto oggi il Franco qualcuno? Aroes. 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 Aroes.